Off to the hunt per la mano sinistra. La mano sinistra in tutti e quattro i righi ha la prima e la seconda battuta di pause, quindi non deve suonare. Suona soltanto alla terza e la quarta battuta di ogni rigo. Nel primo rigo abbiamo degli accordi. Io inizio a leggere gli accordi sempre dalla nota più bassa e andando poi verso destra. Abbiamo Sol, Re, Fa, Sol, Do, Mi e Sol, Si, Re. Nel secondo rigo La, Do, Re e Sol, Si, Re. Nel terzo rigo la mano sinistra deve fare un arpeggio a salire dal basso verso l'alto partendo dal Sol, Sol, Si, Re, Si, Re, Sol, Re, Sol, Si, Sol. Se usiamo la diteggiatura scritta è sicuramente la soluzione più comoda. Nel quarto rigo poche note. Due volte il Sol più alto, due volte il Sol più basso e la conclusione Do e Sol. Quindi dall'inizio due battute vuote, altre due battute vuote e poi due battute vuote e il finale.